Siamo alla seconda edizione dopo 21 anni del carnevale di Sant'Anna Boschi. Questa mattina abbiamo cominciato con la distribuzione dei fagioli grassi in piazza Sant'Anna e oggi pomeriggio proseguiamo con la sfilata con vari gruppi allegorici. Finita la sfilata ci saranno i giochi, c'è la gara dello strabiuc per i buscarin e per i bambini c'è la rottura delle pignatte. C'è anche un gioco che abbiamo portato noi in medievale che è lo Schiapanus che praticamente una volta visti in piazza vedrete che si lascia cadere una noce e i bambini dovranno cercare di romperla con un martello. Durante il percorso ci sono quattro tappe degustative, si comincia dalla campagnola con il vin brulè, poi si passa alla cioccolata calda e ai dolci e proseguendo abbiamo della pizza al taglio, del salam patata e dei fagioli grassi. Per ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita di questo carnevale, non è difficile essendo una piccola realtà ma ci stiamo provando via, Boschi in Festa c'è, sono felice di farne parte e che ci sia un gruppo così unito che prosegue la tradizione. Grazie a tutti!